Rispetto a sabato 29 giugno, quando sono stati registrati 172.000 transiti, per sabato 6 luglio è previsto il passaggio di quasi 190.000 mezzi. Sull'autostrada A4 in direzione Trieste, sia al mattino sia al pomeriggio, sarà una giornata da bollino rosso, mentre al mattino in A28, direzione Portogruaro, in A4, direzione Venezia, per tutta la giornata, si avrà traffico sostenuto. I caselli che saranno più sotto pressione, la barriera di Trieste, l'Iserta e la Tisana, Sandonai e Villesse. Oltre alle forze in campo di autostrada e alto adriatico, che verranno ulteriormente implementate, in particolare a lesa azione, ci sarà anche l'ausilio dei piazzisti, posizionati ai caselli di Lisert, Villesse e la Tisana, Sandonai e Sastino. Domenica a 7 luglio sarà caratterizzato da bollino giallo, con una previsione di quasi 170.000 transiti. Codi a tratti e rallentamenti potrebbero verificarsi in A4 in entrambe le direzioni, sia al mattino sia al pomeriggio, anche per i primi rientri dalla località Balneari, in A28, direzione Porto Gruaro, in particolare la sera, per il rientro dalla montagna. La circolazione dei mezzi pesanti sarà vietata in tutto il territorio nazionale, sabato 6 luglio, dalle 8 alle 16 e domenica, dalle 7 alle 22.